ciao a tutti popolo del tubo e benvenuti in questo nuovo test map un test map per console e per pc torniamo finalmente sulla ravenport perché dico torniamo beh per chi non ha giocato a farming 19 questa mappa sarà nuova ma in realtà per chi viene dai vecchi farming questa mappa sa che non è nuova ma è la mappa americana di farming simulator 19 no quando uscì il gioco c'era la mappa europea e la first burn e la mappa americana appunto che era la ravenport io mi ricordo ci feci una serie da console pensate perché ai tempi di farming 19 la serie europea la portai su da pc e la serie americana la portai da console e quindi feci questa questa serie su questa bellissima mappa ora il nostro celobuchi ha riportato in vita questa mappa lui dice ho cercato di mantenere lo stesso aspetto della ravenport ma con texture illuminazione e tutte nuove e delle migliorie ad esempio una delle aggiunte che ha fatto e che ci sono molte fabbriche molti lotti di terra che una volta acquistati possono essere rimossi cioè quello che voi avete sopra i lotti di terra lo potete togliere per costruirvi quello che volete voi quindi ammesso non ora non so se è proprio tutto 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 ma la maggior parte delle cose che voi trovate sopra i lotti quando comprate un pezzo di terra eccetera eccetera la maggior parte degli edifici fabbriche eccetera eccetera può essere venduta e questa è una grande cosa che non sempre c'è in tutte le mappe quindi prima grande cosa poi ha aggiunto il treno con tutti i punti vendita eccetera 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 e inoltre ci sono anche sia delle produzioni preimpostate ma anche delle serre che producono roba extra insomma adesso andremo a vedere piccola parentesi la compatibilità con la premium ora io quando faccio i test mappo i test mod non attivo mai altre mod proprio per capire se eventuali problemi eventuali bug siano della mappa della mod in sé o magari un conflitto mod quindi se tu vai ad attivare altre mod magari testi una mod una mappa e trovi un bug ma in realtà è un conflitto quindi io non testo mai con altre mod testo tutto al naturale ma credo che sia compatibile con la premium perché il problema di compatibilità con la premium veniva nel momento in cui la premium era uscita con le mappe vecchie quindi esce la premium le mac le le mappe diciamo che sono uscite prima della premium avevano questo problema di compatibilità ma tutte le mappe che vengono da dopo la premium è ovvio che siano già preparate dai mapper con la compatibilità quindi anche se non l'ho provata mi sento di dire che tranquillamente sicuramente la mappa sarà pronta anche per la premium così come tutte le mappe ripeto uscite da novembre in poi io questo insomma non lo ripeterò più sui futuri teste mappe ma è ovvio che siano preparate anche per la premium ora abbiamo fatto tre minuti di intro direi di lasciare un bel like ino vi ricordo che in descrizione c'è la mia piattaforma viola dove sono i live tutte le mattine tutte le sere se avete amazon prime potete aiutarmi sostenermi gratuitamente con un abbonamento ed entrare anche nella fantastica chat telegram riservata agli abbonati inoltre ci sono i link per un super grazie un caffettino una donazione un abbonamento tutte cose che allungano la vita del canale e mi consentono di fare questo di stare qui con voi tutti i giorni quindi grazie agli amici che mi aiutano in quel modo la detto questo iniziamo iniziamo a vedere il pda il pda è rimasto lo stesso è rimasto il medesimo con l'aggiunta come vedete di qualche cosa e che ovviamente sul 19 non c'era come le produzioni eccetera eccetera per quanto riguarda il multifruit è praticamente standard non ci sono colture aggiuntive il farmland come vedete è fatto bene ci sono la maggior parte diciamo contiene la maggior parte dei lotti contiene sia il campo sia un po di zona verde intorno al campo come vedete il mapper ha aggiunto qualche piccola zona forestale che magari non c'era sulla sulla ravenport del 19 quindi qualche piccola aggiunta di zona forestale ma per il resto la mappa diciamo è rimasta quella allora iniziamo da sotto iniziamo dalla farm questa qua ragazzi iniziamo da sotto io ho iniziato la partita in modalità facile e sono spawnato nella farm in basso a destra quindi iniziamo un po da qua a vedere tutto vabbè c'è la classica casa della fattoria questa è la fattoria iniziale come potete vedere dove abbiamo casa pollaio e silos né più e nemmeno cerchiamo un pochino di correre perché diciamo non voglio che questo test mod duri tantissimo eccolo qua guardate che bello questo pollaio creato fra le lamiere speriamo che sti polletti non si beccano il tetano insomma e questo è il pollaglietto poi questa è la prima zona allontanandoci andiamo nella zona delle vacche e delle pecore vedete qua è stata aggiunta tutta questa zona qua ovviamente stalla in stile americano eccola qua bellissima stalla sia delle vacche e sia delle pecorelle poi insomma capite dove si ricarica il latte capite dove si comprano gli animali dove si scarica il mangime la razione mista la paglia eccetera eccetera non devo essere io insomma adesso a dirvi queste cose questo è il pascoletto delle pecorelle eccolo qua e andiamo avanti andiamo avanti qui troviamo la prima produzione cozi wool spinnery che è la il praticamente il lanificio eccolo qua guardate che bello questo non c'era ovviamente sul sulla versione del 19 questa è la prima produzione funziona esattamente come di default lana cotone e in cambio avete dei tessuti ecco qua poi andiamo avanti con il pda con la mappa fino ad arrivare alla zona sinistra che è la zona diciamo della città dove troviamo svariati punti vendita abbiamo questo ristorante che è un punto vendita guardate che bello qua abbiamo la zona diciamo proprio abitata siamo praticamente al centro della città quassù si sale e come vedete saliamo e andiamo verso il water tower sell point che è un altro punto vendita questa bellissima torre che io non la ricordo sinceramente sul 19 credo che questa sia stata aggiunta dopo ecco qua questo ragazzi è un punto vendita poi si va avanti e qua abbiamo il distributore con il punto vendita del metano eccolo qua poi vi farò vedere metano cosa come dove poi vi farò vedere tutto non vi preoccupate questo è il mitico shop ragazzi chi se lo ricorda il mitico shop della ravenport mamma mia c'ho la pelle d'oca ragazzi mi sembra veramente ieri vedete che ce lo buchi ha aggiunto anche la bandiera bosniaca perché lui è bosniaco no perché uno può dire ma che c'entra la bandiera bosniaca perché appunto lui è bosniaco questo quindi è lo shop vicino allo shop troviamo il panificio standard né più e nemmeno ragazzi ecco qua panificio standard che appunto una volta compilato vedete che vi produce non abbastanza soldi scusate ragazzi non ci penso mai a mettere i soldi quando faccio i test map che come vedete è il panificio dicevo è standard ma produce delle cose particolari diciamo molto americane a parte il pane abbiamo la possibilità di produrre il pane di mais con la farina di mais e il burro abbiamo le torte alla zucca poi vi farò vedere come produrre zucca le torte di mele e diciamo questo questo pane zuccherato diciamo sempre con farina di mais e zucchero per quanto riguarda il zucch il zucchero il zucchero per quanto riguarda lo zucchero e lo so ragazzi ogni tanto il cervello me va in conflitto per quanto riguarda lo zucchero lo potete si produrre ma lo potete acquistare anche allo shop ovviamente a un prezzo maggiorato come vedete qui da me a modalità facile 6000 euro un bancale de zucchero quindi quasi quasi vi conviene iniziare a fare le barbabietole insomma poi andiamo avanti andiamo avanti qui abbiamo il essiccatore essiccatore di mais quindi qua è possibile essiccare il vostro mais ovviamente anche questo va comprato seccando il mais noi abbiamo la possibilità di rivenderlo a un prezzo maggiore ci si mette il mais ci si mette il propano e si ha appunto questo mais essiccato qui caricate il propano e qua ragazzi essiccate il vostro mais ok poi zuccherificio appunto lo dicevamo prima per produrre lo zucchero ma è quello di default né più e né meno frantoio ragazzi per il vostro lieto ma è quello di default né più e né meno saliamo sulla parte alta sinistra qui troviamo tutto un punto del treno abbiamo il punto appunto per richiamare il treno e tutti i vari silos vedete questo è un punto di ricarica per il treno lo chiamate lo affittate eccetera eccetera questa è tutta la parte diciamo ferroviaria della mappa proprio davanti abbiamo un bellissimo ristorante sulla spiaggia che ci consente di vendere i nostri prodotti guardate qua che vista ragazzi che vista qui sulla ravenport questa qua sembra quasi la spiaggia di gta vedete la 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 spiaggia che troviamo su gta tipica spiaggia americana questo questo ponte di legno spettacolare ragazzi spettacolare bello 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 guardate che panorama poi di qua abbiamo la carpenteria né più e nemmeno come la carpenteria insomma di default un'ampia zona dove fare legna e tutti i derivati della legna quindi eccola qua poi più avanti abbiamo la segheria quindi giustamente segheria e carpenteria messe molto vicine e poi vabbè i punti vendita della segheria eccetera eccetera si sale ragazzi si sale fino ad arrivare al caseificio e questo l'ho apprezzato perché come vedete non è che il modder ha messo giù il caseificio di default eccolo qua è un impianto grossissimo un super mega caseificio sembra quasi una caserma da fuori l'area 51 voi venite qui lo acquistate e come vedete potete fare burro formaggio e cioccolato quindi tanta tanta roba laggiù c'è il punto di scarico mi piace molto questo caseificio grosso grosso in stile americano qua su abbiamo un altro punto vendita il grain elevator questo in alto insomma grain elevator west guardate che possenza questo punto vendita e qui abbiamo un punto vendita per il treno né più e nemmeno scendiamo andiamo in basso e troviamo un altro punto vendita il central grain elevator eccolo qua altro immenso punto vendita che però come vedete può essere anche acquistato una volta che noi lo acquistiamo diventa in tutto e per tutto un mulino dove fare sia farina di mais come potete vedere 15 di mais fanno 13 farina di mais sia la farina di mais essiccato quindi già guadagnate di più dal mais essiccato in più se dal mais essiccato fate farina di mais essiccato guadagnate ancora di più quindi mi raccomando per fare i soldini in questa è tanta 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 robettina poi andiamo avanti andiamo avanti e vediamo tutta la parte centrale della mappa iniziamo dal ranch eccolo qua che è un punto vendita né più e nemmeno guardate quanto è bello è un super mega punto vendita bellissimo poi a proposito di ranch vicino al ranch non può che esserci la stalla dei cavalli questa è un'altra giunta della mappa perché non era presente qua la stalla dei cavalli sul sul 19 e qua come vedete c'è lo bug che ha fatto un grandissimo lavoro e inoltre proprio vicino alla stalla dei cavalli avete tutta questa zona per allenarli quindi tanta tanta robettina poi altro punto del treno per affittare il treno per caricare vendere i vostri prodotti guardate che no vendere più che altro caricare caricare scaricare affittare il treno poi andiamo nella zona più centrale della mappa con il mercante di bestiame e il punto vendita dei vostri foraggi eccolo qua ragazzi questo è il mercante di animali l'unica pecca diciamo io avrei messo un po di animali vivi qua intorno alla zona e invece come al solito come vediamo spesso in tante mappe purtroppo sembrano negozi di animali disabitati perché non c'è assolutamente niente di vivo all'interno come potete vedere ehi non c'è niente tutto tutto morto vabbè comunque qua vicino abbiamo un punto di vendita per i vostri foraggi come già detto e questa è tutta la parte che riguarda gli animali ora abbiamo come vedete completato il giro perché siamo tornati praticamente all'inizio l'unica cosa che ci manca da vedere è il biogas che è proprio al centro della mappa non ve potete sbagliare con trincee aperte io le preferisco chiuse ma trincee enormi come vedete digestato qualcosa per fare il digestato enorme insomma è in mezzo come 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 biogas qui ovviamente c'è il trigger per acquistarlo e una volta acquistato come vedete possiamo fare ovviamente metano e digestato da dalla roba di default insomma né più e nemmeno è un biogas di default o tornando in farm ragazzi tornando in farm facciamo il punto sui posizionabili ok quindi cominciamo un pochino a vedere gli edifici dove abbiamo un garage e anzi due garage eccoli qua poi abbiamo la possibilità di mettere giù il silo poi per quanto riguarda i container abbiamo un punto per comprare erbicida calceviva e fertilizzante liquido e poi la casa della fattoria e poi ragazzi quello che ci interessa di più ovvero le produzioni come produzioni possiamo mettere giù il succo di frutta la fabbrica di succo di frutta che adesso io appoggio qua per farvi vedere bene la fabbrica di succo di frutta e un fermenting silo ovvero un fermentatore anche questo ragazzi lo metto giù a caso è non ci fate caso che sto a rovine campi solo per farvelo vedere così vi faccio vedere poi meglio come come funzionano poi per quanto riguarda le serre abbiamo delle serre modificate come potete vedere abbiamo la greenhouse fruit che fa appunto ananas mele limoni e arance credo che queste siano arance a vederle serra grande per le zucche metto giù tutto ragazzi metto giù tutto così vi faccio vedere anche amici che è tutto vendibile in farm vedete tutto quello che non usate che a voi non piace lo potete vendere lo dicevamo prima vedete possiamo vendere praticamente ogni cosa così vi faccio vedere le varie serre la greenhouse fruit la serra grande vi faccio vedere assolutamente tutto la serra media che praticamente fa le stesse cose della grande e la piccola queste sono praticamente piccola media e grande che fanno la stessa identica cosa poi per quanto riguarda le stalle abbiamo la stalla delle vacche da mettere giù la stalla dei cavalli da mettere giù la stalla delle pecore da mettere giù e per il resto non mi pare che ci sia altro poi recinzioni eccetera eccetera abbiamo solo le bandiere come come diciamo decorazioni e per quanto riguarda le vernici invece abbiamo ogni tipo di vernice messa sulla mappa niente male direi vediamo la parte riguardante le serre e appunto le due produzioni che possiamo mettere giù noi la serra diciamo quella che produce pomodori lattuga e fragole ci dà anche la possibilità di fare le zucche con semplice acqua quindi voi mettete acqua e potete produrre le zucche per fare appunto le torte di zucche o per vendere zucche basta senza fare torte insomma mentre quest'altra serra questa qui quest'altro tipo di serra ragazzi ci dà la possibilità di fare limoni arance ananas e mele ora le mele in serra io non sapevo esistessero le mele in serra però a quanto pare ci sono pure le mele in serra questa serra qua a differenza dell'altra vuole anche il concime quindi vuole acqua da mettere qua e concime da mettere qui ora con tutti questi frutti ortaggi eccetera eccetera voi potete fare delle produzioni aggiuntive e qua abbiamo messo giù appunto la fabbrica qui caricate la vostra roba e adesso vi faccio vedere cosa potete produrre succo d'uva ovviamente dall'uva succo di mele dalle mele succo d'arancia dalle arance succo di ananas dall'ananas e limonata dal limone più lo zucchero e poi se non avete voglia di stare a combattere con le balle fasciate o con le trincee per fare l'insilato eccoci abbiamo questo fermentatore che è veramente molto utile voi ci mettete dentro o pula o fieno e erba e lui vi crea non solo l'insilato ma anche il metano e il digestato quindi direi che ops stavo cadendo di sotto direi che è molto utile e molto patatoso ragazzi questo è tutto quello che c'era da dire sulla ravenport capisco che sono andato un po veloce ma non volevo che questo video durasse troppo perché il tempo è prezioso il mio è il vostro quindi spero di essere stato chiaro nel minor tempo possibile io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa mappa se la giocherete se non la giocherete se vi interessa se non vi interessa insomma scrivete un po qua sotto nei commenti io come al solito vi ringrazio di essere arrivati qui e ci vediamo al prossimo video o lasciate il leghetto me raccomando è ciao ciao